Salve, volevo ringraziarvi per essere venuti oggi e dare il benvenuto alla seconda conferenza del ciclo sul diritto alle donne in cui parleremo di Giovanna d'Arco con Giulio Stolfi e Federica Bordrini che coordina tutto il ciclo. Siamo nella cornice della Fondazione Ernesta Besso. Questa sala era la sala da pranzo di Marco Besso e qui aveva passeggiato anche Einstein. Lì vedete Marco Besso e soprattutto le persone che sono venute vengono qui per la prima volta oggi. Marco Besso e sua moglie Ernesta e Ernesta è la signora a cui è dedicata la nostra fondazione e sono cent'anni che ci occupiamo di donne, di temi femminili, di storia dell'arte e di educazione. La prima presidente è Lia che è la signora col vestito argentato nel quadro grande con le sue figlie Hortenza e Matizia. Matizia è stata la seconda presidente della fondazione, lui è mio nonno e mia nonna. Mia nonna invece è preceduta prima di mia mamma e poi io. Mia mamma purtroppo non abbiamo il quadro. E adesso darei la parola a Federica. Buonasera a tutti, vi presento l'ospite speciale di stasera, il dottor Giulio Stolfi. Il dottor Giulio Stolfi potentino e molto fiero di esserlo, laureato con l'Ode all'Università Luis Guido Carli, poi si è addottorato all'Università di Firenze, ha preso il dottorato in storia, in teoria e storia del diritto con una tesi dal titolo dall'amministrare all'amministrazione, l'azienda e l'organizzazione statuale del Regno di Sardegna tra il 1717 e il 1853, pesi che poi ha pubblicato in una monografia e con cui ha vinto anche un premio, il premio Ricerca Città di Firenze, l'edizione 2013. Dal 2018 è sostituto procuratore presso la Procura regionale per la Basilicata della Corte dei Conti, fa anche docenza in storia del diritto, è titolare di un incarico di docenza integrativa presso la LUIS, è socio della Società Italiana di Storia delle Istituzioni, è anche componente del Centro Studi sul Parlamento, il suo ultimo libro che è uscito recentemente, di cui è coautore, si intitola Senato Segreto. Grazie, grazie Giulio di essere qui, siamo veramente molto contenti. Grazie Federica, una presentazione veramente lusinghiera dalla quale si capisce che tra tutte queste cose sicuramente non sono un medievista, quindi diciamo attimi di un certo imbarazzo. in realtà, però forse qualche cosina a livello di dialogo riusciamo ad imbastirla in modo simpatico, perché in effetti una delle cose che mi hanno sempre affascinato molto è come nasce questa entità, questa potente architettura materiale e concettuale in cui viviamo ancora oggi per lo più inconsapevolmente immersi, cioè lo stato moderno. E in effetti quella di Giovanna d'Arco per me è sempre stata, diciamo, il suo principale fascino, oltre alle caratteristiche della figura che incitano moltissimo a sbrigliare la fantasia, è stato anche quello di risiedere proprio nel crinale dove il mondo medievale trasmuta nel moderno e quindi dove si generano quelle, come dire, quei concetti forza che ancora oggi noi ci portiamo dietro. E la cosa per me chiaramente interessante da segnalare subito è che proprio alla radice di queste rappresentazioni della modernità noi troviamo una figura che forse troppo sbrigativamente ci viene raccontata come eccezionale perché marginale, cioè perché donna. In realtà l'eccezionalità di Giovanna sicuramente sta nella sua marginalità femminile, ma racconta di una complessità del femminile nel Medioevo che secondo me se noi la traguardiamo sotto questo peculiare aspetto della storia delle istituzioni forse riesce perfino a raccontarsi in un modo direi più ricco, più affascinante rispetto ad altre più tradizionali prospettive. Cioè abbiamo qualche cosa da dirci pure come giuristi su questo tema. Io però ecco ci siamo suddivisi un pochino il compito in modo tale che diciamo voi non vi annoiate troppo sentendo soltanto la mia voce. Io inizio facendo un piccolo racconto e vorrei che voi lo veste proprio come un racconto, nel senso che se dobbiamo entrare nella mentalità di questo autunno del Medioevo dobbiamo entrare in una mentalità di un'Europa che amava moltissimo raccontarsi delle storie. E quindi innanzitutto quella di Giovanna d'Arco è una storia affascinante. E una storia che per i suoi contemporanei sicuramente era innanzitutto una storia di una figura valorosa, esemplare. Tant'è vero che una delle tre fonti letterarie più vicine a lei che noi abbiamo, che encomiastica nei confronti di Giovanna, sono tre. Una è un poemetto di una poetessa, ancora una volta, donna, Christine de Pisan. Un altro è invece un elogio molto giuridico di un uomo di cultura molto potente, molto importante del tempo, era il cancelliere della Sorbona, Jean Gerson. Il terzo è questa bellissima gemma incastonata in una poesia famosissima che è il Gran Testamento di François Villon, dove, e che scusate, la Ballade des Dents du Tant Jadis di François Villon, dove a un certo punto la figura di Giovanna compare fra quella delle mitologiche donne prodi, no? In una tradizione che effettivamente veniva dall'Europa cortese del duecento, ma che trovava intatta la sua carica, la sua capacità di parlare agli uomini anche di quel tempo, dove la civiltà cortese sicuramente si era spenta, ma nasceva qualcosa di diverso, cioè la civiltà cortigiana, che da quella cortese riprendeva moltissimi, come dire, stilemi. E quindi qui per la prima, una delle prime volte in cui troviamo la nostra Giovanna, nella corona delle donne prodi della storia, e ci chiede, con questi versi veramente immortali, bellissimi, che si commentano da sé, dove è Giovanna, la buona fanciulla di Lorena, che gli inglesi hanno bruciato a Ruyen, dove sono tutte loro, quelle di prima e quelle che verranno dopo, vergine sovrana, ma dove sono le nevi dell'altro anno? E' questo verso. E quella invece è un'immagine che mi è piaciuto mettere perché è una delle primissime raffigurazioni di Giovanna, e si trova, è un disegno, uno scarabocchio, fatto a margine di un registro di protocollo del Parlamento di Parigi. Ora, voi sapete, il Parlamento di Parigi non c'entra niente con il Parlamento in senso moderno, perché era un tribunale, era una corte sovrana, diciamo, era il più importante tribunale del Regno di Francia, e un suo cancelliere a un certo punto fa questo disegnino di Giovanna, che forse interesserà anche il discorso di Federica, perché è vestita da donna e con i capelli lunghi, nell'atto di reggere lo standardo bianco dell'armata dell'incoronazione del Delfino. Ma andiamo con ordine. Ho detto che ci dobbiamo raccontare una storia, perché volendoci calare in questo clima, come dire, di questa complessità medievale, soprattutto è una complessità che si presta a molteplici intrecci di affabulazioni, per cui mi è piaciuto in un certo senso provare a inserirla in una cornice letteraria. Ora, a me sembra personalmente che nel Medioevo, almeno quello di cui ho letto io, ci siano sempre soltanto due stagioni, cioè l'inverno e la primavera. Stranamente è un'impressione che ho sempre avuto, questa Europa medievale immersa fra il maggio e la neve. E ancora una volta la storia di Giovanna in effetti si consuma fra il maggio e l'inverno. Perché maggio è sia il mese in cui per la prima volta ella ode le voci, diciamo, nel suo paese natale di Domremy, oggi Domremy la Piusselli, naturalmente, peraltro ai confini del Regno di Francia, circondato dal territorio borgognone, noi lo vedremo fra pochi minuti, e maggio è anche il mese in cui appena due anni dopo verrà bruciata sul robo. Nel mentre, questi lunghi inverni, in uno dei quali, al termine di uno dei quali, verrà catturata. E qui, vabbè, è soltanto una suggestione, ancora con François Villon, questa volta il Gran Testamento di François Villon, che ci parla di questo inverno medievale, questo gelo che regge l'Europa, quando i lupi si nutrono di vento. Immaginatevi questo, questo clima. E poi, ancora, come suggestione della civiltà cortese, che loro conoscevano benissimo, pur essendo ormai un po' lontana da loro, Gioffre Rudelli, il poeta dell'amore di terra lontana, dell'amour de l'on, che ci parla di quando i giorni che sono lunghi, in maggio, e lui, diciamo, si risveglia l'amore per la contessa di Tripoli. Che cosa c'entra tutto questo con Giovanna d'Arco? Secondo me c'entra in un in un duplice modo. Perché credo che non si intenda bene la figura di Giovanna d'Arco se non la si colloca in un certo contesto, in un certo contesto culturale, vorrei dire quasi anche narratologico, se me la consentite. Cioè, Giovanna in un certo senso appare come una figura che non è così poi infrequente in questo Medioevo in cui i lupi si nutrono di vento e in cui il Maggio esorta i cavalieri e le dame alla stagione dell'amor cortese. Perché Giovanna ci appare sul proscenio della storia del Regno di Francia quasi come uscita da una di quelle stesse leggende che poi i suoi coevi amavano raccontarsi. Perché attorno ad un albero chiamato l'albero delle fate nel suo paese natale, mentre sta là, diciamo, nella stagione appunto del Maggio, che è una stagione di incanti nella civiltà, come dire, dell'Europa occidentale, segnata appunto da queste radici nei culti arborei che tutti noi conosciamo e che spesso trovano anche delle assonanze inaspettate in campagne molto più vicine a noi. E Giovanna è proprio lì vicino a quest'albero fatato, incantato, che per la prima volta nel bel mese di maggio per l'appunto sente queste voci che la chiamano ad una missione politica molto particolare. E non sono voci qualsiasi, perché sono voci di tre figure delle schiere celesti, delle potestà, come dire, celestiche, ciascuna delle quali fa rimando ad una simbologia molto precisa e molto particolare. Perché le voci che sente Giovanna sono le voci dell'Arcangelo Michele, di Santa Margherita d'Antiochia e di Santa Caterina d'Alessandria. Tutto si tiene in un equilibrio di rimandi e di voci che si rincorrono come angelica nel bosco. Perché l'Arcangelo Michele è il protettore del Regno di Francia, è l'Arcangelo guerriero che il cui, diciamo, la cui invocazione costituisce il grido di guerra dei cavalieri francesi. Quindi è, come dire, non solo il santo militare per eccellenza, ma anche, diciamo, un po', come dire, il difensore più strenuo della causa del re di Francia in tutte le circostanze. E non soltanto in quel momento, ma lo sarà anche dopo, ma lo è stato anche prima. Santa Margherita e Santa Caterina, viceversa, sono esattamente, probabilmente, l'archetipo di quello che la stessa Giovanna in una certa misura vuole essere. Cioè, fanciulle, sicuramente vergini, perché la donna poi sposata assume un ruolo totalmente diverso nella società, mentre invece la donna vergine nel Medioevo, ancora non maritata, si carica anche, sprigiona una potenza profetica che in qualche modo è riconosciuta dai suoi contemporanei anche uomini, le quali, attraverso il martirio, tuttavia, hanno dimostrato una particolare, come dire, tempra morale, spirituale, intellettuale. Perché Santa Margherita d'Antiochia è famosa perché è quella che ha preso ammazzate il demonio, fondamentalmente, sempre cosa buona, quindi una donna che combatte il diavolo, guarda caso, come San Michele Arcangelo. Santa Caterina d'Alessandria, da noi oscurata dalla più famosa, diciamo, omonima Santa Caterina d'Alessandria, in realtà è, come dire, la vergine filosofa che, probabilmente figura semimitica, ma non per questo meno affascinante, riesce a confutare addirittura le tesi di ben 40 filosofi pagani, probabilmente neoplatonici, nel corso di una persecuzione anticristiana e poi, fra una serie di miracoli, fra cui si spezza la ruota della tortura, eccetera, eccetera, viene glorificata con la palma del martirio. Quindi non sono tre santi a caso che parlano a Giovanna, ma sono tre santi che indicano molto chiaramente che lei è investita di un certo ruolo all'interno di una certa cornice che è tutta intessuta di rimandi simbolici che per i suoi contemporanei non erano una cosa lanciata in un modo assolutamente incomprensibile, un fenomeno che non si era mai visto prima. Fino ad ora, diciamo, ho voluto un pochino raccontare, intessere, a metà fra la leggenda, la poesia, la letteratura, per far capire che questa figura femminile in effetti fa parte di un medioevo che forse ci nasconde qualche cosa ancora oggi. Nel senso che non è poi, come dire, quella cappa plumbea che noi siamo abituati a vedere, oppure quel mondo interamente maschile, oppure quel mondo che aveva dimenticato le sue radici complesse, che stanno sul ramo d'oro, per citare Fraser, di magia, antropologia e religioni. Ma esattamente, però, qual è il contesto storico? Il contesto storico in cui, come avrebbe detto probabilmente qualche suo contemporaneo, il Signore decide di suscitare questa profetessa, è quello della guerra dei cent'anni. Un tempo visto soprattutto dall'Ecole des Annales, insieme con il Trecento, come uno dei punti di svolta più importanti in assoluto della storia europea, oggi la guerra dei cent'anni, la sua importanza, diciamo, è stata abbastanza ridimensionata, in primo luogo considerando il fatto che comunque non è che è durata cent'anni, è stata una serie di intervalli bellici che si sono trascinati con simpatici intermezzi, tipo la peste nera e cose simili, ma comunque, diciamo, in qualche modo, ecco, non è stato l'unico evento da tenere in considerazione per capire dove va l'Europa occidentale. Tuttavia, la sua importanza per noi è cruciale, fondamentale, e le sue origini sono in un tipico conflitto medievale di tipo dinastico. Poi ne parleremo meglio, ma il concetto chiave, uno dei concetti chiave di questa sovranità medievale, che però, appunto, Giovanna in un certo senso, diciamo, indica con la sua figura come in transizione, perché Giovanna è sulla transizione di questa regalità medievale, uno dei concetti chiave era quello della legittimità. Cioè, l'autonomia del politico assolutamente non esisteva. L'idea era che il sovrano, in qualche modo, dovesse essere iscritto in una cornice di diritto e di giustizia che lo rendeva sovrano, e non il contrario. Non era la sovranità che costituiva il diritto, ma il diritto che costituiva la sovranità. Fuor di elucubrazioni, quando... Ecco, io lo sapete che qualche cosa... No, dicevo, quando in effetti una linea maschile viene meno, il problema che si pone è quello, ovviamente, di chi sia il successore legittimo, secondo il diritto, quindi secondo l'ordine naturale delle cose prestabilito da Dio. È quello che succede alla Francia dell'inizio del Trecento. Quando la linea agnatizia dei discendenti della dinastia Capetigia, per una serie di coincidenze molto sfortunate, non so se qualcuno di voi ha mai incrociato una serie di romanzi di popular history che si chiama I Re Maledetti, I Re Maledetti sono proprio quei tre che vedete nel secondo ramo, cioè i figli di Filippo IV il Bello, che uno dopo l'altro fanno una brutta fine senza riuscire ad assicurare discendenza. Maledetti perché? Perché la maledizione sarebbe quella lanciata, naturalmente, siccome il matto prima o poi tira fuori i templari, come diceva un grande storico inglese, la maledizione lanciata dall'ultimo gran maestro del Tempio sul rogo nei confronti del suo grande persecutore, Filippo IV, che per i fini della nostra storia è in primo luogo ed innanzitutto uno dei primi re sotto i quali la figura del sovrano e quindi del detentore della potestà politica in un certo senso inizia a riorientarsi verso delle coordinate che saranno molto più simili a quelle che noi conosciamo. Perché Filippo il Bello è uno di quelli che capiscono che dignitas numquam perit, che la dignità reggia non cessa mai, non è legata esclusivamente alla sua persona, ma a quello che solo nel corso di diversi secoli poi impareremo a chiamare lo Stato. Quindi Filippo IV è l'incarnazione di una potestà di governo che non cessa mai, che trascende la sua persona e quindi di qualche cosa che si esprime attraverso un'amministrazione che opera nel continuo e che quindi ha bisogno di risorse nel continuo, che fa la guerra nel continuo, che prosegue la guerra con la diplomazia quando la guerra è finita e quindi qualche cosa che inizia ad assomigliare allo Stato moderno. Però Filippo IV, come tutti, pur essendo soprannominato l'uomo di Marmo proprio per questa sua adesione così intima alla sua visione di regalità perenne, comunque di Marmo non lo era, tant'è vero che muore, muoiono anche i suoi discendenti, alla fine, alla morte di Carlo IV, si trova il problema della mancanza di eredi. A quel punto, come voi vedete benissimo da questo schemino, la persona più vicina al ramo, diciamo al ceppo Agnatizio, è una donna, cioè Isabella, la figlia di Filippo IV, che ha sposato Edoardo II, il plantageneto, di Inghilterra, da cui il figlio Edoardo III. Ma allora si pone un problema che sicuramente per altri monarchi medievali fino ad allora non si sarebbe mai posto, perché non ci si sarebbe mai posto il problema che due corone o due feudi si trovassero unite in un'unica persona. Se quella era la discendenza legittima. In realtà però i baroni del Regno di Francia, l'assemblea, diciamo, dei nobili del Regno di Francia, questa situazione iniziano a considerarla sotto una luce un po' diversa. Cioè non vogliono che il sovrano del Regno confinante, che peraltro è uno dei grandi vassalli del Regno di Francia, in ragione di una serie di feudi che non staremo qui a ricordare, probabilmente il vassallo più ingombrante del Regno di Francia all'epoca, non vogliono che riunisca su di lui le due corone. Vogliono che la corona di Francia rimanga da sola, perché iniziano a concepire, questa è la cosa che ci interessa, la Francia come un'entità che ha, diciamo, qualche cosa di distinto e di unico, che non può confondersi con altre entità politiche. Quindi ci vuole il re di Francia. Non basta un re per quell'entità che è la Francia, ma ci vuole il re di Francia. E chi è il re di Francia? A questo punto lo trovano in un cugino, in un cugino che discende da un fratello di Filippo IV, quel Carlo di Valois che si candidò senza successo praticamente a tutte le opportunità dinastiche che si presentavano durante il corso della sua vita, Filippo VI. Ora vi risparmio tutta la storia complicatissima della Guerra dei Cent'anni che fra alterne fortune e rovesci si trascina fino al momento di nostro più immediato interesse, che sta qua. Una fase convulsa, la fase cosiddetta della Guerra di Lancaster, cioè quella che inizia nel 1415, finisce nel 1429 dopo una lunga tregua. Una lunga tregua che viene rotta dal fatto che purtroppo intorno alla corte di Francia si agitano una serie di oscure minacce, perché il re dell'epoca, Carlo VI, molto semplicemente, è pazzo. e ha una serie di tratti particolarmente, come dire, pericolosi della sua personalità, come quello di credere di essere fatto di vetro, il che, diciamo, non lo rende particolarmente adatto alla gestione delle attività quotidiane di governo e lascia alle due fazioni più potenti il compito di battagliare per il potere. Sono due cugini suoi, uno è il duca d'Orlean, uno è il duca di Borgogna, quella Borgogna che Ioannui Zinga ha trattato nel suo libro famosissimo L'autunno del Medioevo come, diciamo, entità che cerca di diventare statuale ma non ci riesce perché è troppo medievale, al contrario della fraccia. Il problema è che queste due fazioni, quindi, che noi forse ricordiamo dai nostri anni scolastici come Armagnacchi e Borgognoni, Armagnacchi sono i partigiani del duca d'Orleanni, Borgognoni ovviamente sono i partigiani del duca di Borgogna, l'equilibrio fra i due, sempre difficile, si rompe nel 1407 quando Giovanni senza paura, nuovo duca di Borgogna, decide di prendere, diciamo, la situazione in mano facendo assassinare il duca d'Orlean. A quel punto, ovviamente, si crea una situazione di forte squilibrio per sopramercato lo stesso duca di Borgogna, Giovanni senza paura, decide di chiamare il nuovo re d'Inghilterra ad intervenire in Francia dicendogli scusa ma qua la tregua dura da un po' troppo tempo, che vieni un'altra volta, non è che è finito quel discorso che devi diventare pure re di Francia, vieni un po', vedi che cosa succede. Nel 1415, infatti, gli inglesi sbarcano in Francia, iniziano subito col botto, vincendo una delle battaglie più famose del Medioevo, che è la battaglia di Asaincourt, dopodiché la guerra si trascina con una serie di rovesci per i francesi, culminati nel 1420 con il cosiddetto infame trattato di Troyes, dove Carlo VI, sempre più pazzo, praticamente rinuncia ai diritti dei suoi discendenti sulla corona di Francia e quindi a tutti gli effetti disereda il figlio Carlo VII, peraltro, mettendo pure per iscritto, per mano di sua moglie, perché il trattato non è firmato da lui, che è assolutamente incapace, ma dalla moglie, mettendo pure per iscritto che non sarebbe figlio suo. A quel punto il trattato di Troyes sancisce che effettivamente il figlio dell'attuale re d'Inghilterra diventerà anche re di Francia, se non che per un torno di fortuna accade che sia Carlo VI sia il cugino re d'Inghilterra muoiono praticamente nello stesso momento. Sicché ci veniamo a trovare in un crocevia particolarmente caotico e confusionario della storia in cui re di Francia e d'Inghilterra non ancora coronato, e questo per noi è molto importante. Sarà il figlio diciamo di Edoardo III, un bambino di pochi anni, mentre il re di Francia della fazione degli Armagnacchi, quindi l'ultimo dei Valois, non coronato nemmeno lui, ma soltanto conosciuto con il nome di Delfino, perché il padre lo aveva diseredato, quindi lui rimaneva soltanto con il titolo che tradizionalmente è attribuito agli eredi del re di Francia, quello che poi diventerà il nostro Carlo VII. E proprio su questo, ah vedete, quello è una miniatura un pochino più tarda che mi è piaciuta molto perché rende molto il clima iconografico dell'epoca, quello è il duca d'Orlean che è presente l'arrivo della morte che sta per scagliare il suo dardo e quindi cade in ginocchio diciamo pensando al, diciamo, confrontandosi con quello che lo attende. possiamo penso andare avanti, è in questo contesto che inizia l'avventura di Giovanna che proprio in questa frase, in questa fase in cui un bambino da Londra regna sui due regni uniti per virtù di un trattato probabilmente invalido, mentre il duca di Borgogna spadroneggia su quasi un terzo delle terre dell'attuale Francia, mentre quello che doveva essere il re di Francia ma che in realtà non può essere incoronato perché il padre stesso lo ha diseredato, si trova diciamo a vagolare nella Francia meridionale in quello che con derisione viene detto il regno di Bush. In questo momento Giovanna poco più che adolescente sente la chiamata a fare qualcosa cioè a cacciare gli inglesi dalla Francia. Il resto io lo racconto veramente in due battute perché è una storia conosciutissima Giovanna ne parleremo meglio perché questo incontro per noi è fondamentale Giovanna dopo aver vinto le resistenze del signorotto locale che però poi si convince e l'accompagna e soprattutto quelle della famiglia perché come sempre i genitori diciamo se c'è un figlio che manifesta doti profetiche non è che sono contentissimi comunque Giovanna si reca dal delfino nel suo castello di Chinon dove si trova in quel momento si presenta a lui e gli manifesta questa missione di liberare il regno di Francia in modo quasi miracoloso viene riconosciuta la bontà del suo carisma profetico da una serie di diciamo dignitari tanto che viene rivestita di armi candide le viene dato uno standardo che diventa lo standardo dell'esercito del delfino e in quello che è il momento culminante della sua diciamo vicenda prima libera dall'assedio nel quale la cingevano le truppe inglesi la città di Orlean che è proprio il simbolo della fazione degli Armagnacchi e poi sempre alla testa di questo esercito riesce a convincere Carlo a spostarsi verso Reims sempre nella valle della Loira quindi liberando tutta la valle della Loira al suo passaggio per essere incoronato nel luogo che tradizionalmente dai tempi di Clodoveo quindi dai tempi dei Franchi è il luogo della consacrazione del re di Francia quindi per forza propria e andando contro il trattato che lo spossesserebbe dei suoi diritti Carlo viene incoronato Carlo VII consacrato unto del Signore vero re di Francia da questo momento in poi a Valanga la storia ci dice che i francesi pian piano pian piano vincendo una battaglia dopo l'altra nonostante il tentativo a quel punto abbastanza ridicolo degli inglesi di incoronare a loro volta il loro re di Francia ma a Parigi quindi in un luogo che non aveva nessuna sacralità ai fini della consacrazione del re nonostante questo Carlo VII non a caso detto il ben servito perché diciamo circondato da una serie di validissimi aiuti e consiglieri prima dei quali Giovanna riesce a riconquistare la sua posizione e effettivamente gli inglesi di lì a poco si troveranno con un solo diciamo scomodissimo strapuntino in Francia che è la città di Calais che manterranno peraltro fino alla pace di Amiens in 1802 in tutto questo purtroppo Giovanna invece non fa una bella fine perché una volta servita ai fini della grande politica dei re e quindi dopo esser stata alla destra del delfino davanti a tutti i grandi feudatari del regno di Francia con il suo standardo bianco a fare come dire la parte dell'ospite d'onore all'incoronazione del suo bel delfino come lei lo chiamava non è più d'utilità fondamentalmente lei vorrebbe tornarsene a casa sua ma in qualche modo rimane invischiata come capitano di eserciti cosa che originariamente assolutamente non era forse ce lo dirà pure Federica e si ritrova a combattere una serie di scaramucce nel teatro di operazioni nel corso con alterne fortune nel corso di una delle quali verrà catturata dagli inglesi è finita la parte bella è finita la parte felice e trionfale che vi ha descritto il dottor Stolfi e adesso invece veniamo al processo cioè la parte triste e umiliante che vi racconterò io fuori dalla battuta il processo Giovanna d'Arco è un processo che si è svolto in modalità tipicamente inquisitorie diciamo la vicenda processuale nel suo insieme va avanti commedo dall'inizio dell'anno alla fine di maggio quindi per circa cinque mesi all'esito di questi cinque mesi alla data del trenta maggio millequattrocentotrentuno Giovanna viene proclamata ostinata incorreggibile eretica nonché relapsa e come tutti sapete l'esito finale lo conosciamo tutti è condannata a morte e alza sul rogo nella piazza del mercato vecchio di Rouen aveva soltanto diciannove anni in quel momento a determinare questo esito tragico è proprio la proclamazione di riconoscimento di Giovanna come relapsa che vuol dire sostanzialmente recidiva la traduzione letterale è caduta due volte probabilmente molti di voi già lo sapranno che questo era fondamentale per arrivare alla condanna a morte in un processo inquisitoriale perché di per sé lo scopo del processo inquisitoriale non è portare alla morte dell'accusato di per sé la volontà dell'inquisizione è soltanto far sì che l'accusato riconosca i suoi errori con un atto di abbiura e quindi si riconcigli con la Chiesa abbandoni le sue teorie eterodosse e riabbracci la retta fede quindi di per sé la conclusione ideale e fisiologica di un processo inquisitoriale è l'abbiura non è la condanna a morte la condanna a morte interveniva soltanto appunto nel caso si fosse davanti a un relapso cioè a qualcuno che dopo aver abbandonato delle dottrine eterodosse vi ritornasse cioè avesse fatto un atto di abbiura e dopo l'abbiura fosse di nuovo sorpreso a praticare dottrine eterodosse a propagandare idee eretiche ed è proprio quello che succede nel caso di Giovanna quindi questo è affidato a un braccio secolare sì cioè quando come giustamente dice il dottor Stolfi se veniva dichiarato relapso la chiesa rinunciava alla possibilità di riconciliare il soggetto e lo abbandonava al braccio secolare che cosa vuol dire all'autorità civile che procedeva a metterlo a morte quindi perché questo potesse succedere erano necessarie due successive condanne e nel caso di Giovanna è esattamente quello che succede la prima condanna interviene in data 24 maggio 1431 c'è una sentenza di condanna per un gran numero di delitti canonici le viene contestato superstizione falsa pretesa di aver ricevuto rivelazioni private come vi ha detto il dottor Stolfi le voci le voci di San Michele le voci di Santa Caterina la voce di Santa Margherita aver violato in generale leggi canoni e precetti biblici aver commesso sacrilegio contro i sacramenti aver incitato i francesi alla rivolta e aver commesso quelli che sono in assoluto i più gravi fra i delitti canonici che sono l'apostasia cioè la rinuncia alla fede cristiana lo scisma aver rotto l'unità della chiesa l'eresia aver abbracciato dottrine derodosse per tutti questi reati Giovanna è condannata alla pena del carcere a vita a pane e acqua un trattamento penitenziale rigorosissimo che andava però scontato presso una casa religiosa cioè doveva essere internata in un monastero dove sarebbe stata reclusa sotto il controllo di donne sotto il controllo di religiosi femmine di monache sappiamo però che Giovanna non arriverà mai a questa situazione che era sì una situazione di stretta penitenza ma comunque abbastanza favorevole a lei sotto il controllo di donne non presso una prigione ma presso un monastero non arriverà mai a trovarsi in questa situazione perché solo quattro giorni dopo la prima condanna arriva una seconda condanna in cui appunto la si dichiara relapsa e la condotta per cui è dichiarata relapsa potrebbe essere sorprendente non è quella che ci aspettiamo perché è dichiarata relapsa e quindi mandata a morte per una condotta che in inglese definiamo il cross dressing cioè aver adottato gli abiti del sesso opposto al suo sostanzialmente essersi vestita da uomo che è una cosa che in effetti Giovanna aveva fatto fin dall'inizio della sua avventura nel momento in cui aveva adottato diciamo l'abito maschile nel momento in cui per la prima volta aveva lasciato il suo villaggio e aveva mantenuto l'abbigliamento maschile per l'intera durata della sua avventura e non rinunciandomi neanche dopo l'arresto anche mentre era processata manteneva l'abito da uomo e non voleva abbandonarlo e questo aspetto era stato discusso anche nel processo infatti nell'atto di accusa era un atto in undici punti formulato dal promotore di giustizia quello che oggi chiameremo il PM uno dei primi punti era proprio dedicato a parlare di questo perché nel terzo punto dell'atto di accusa si leggeva questa donna inoltre è un'apostata perché con cattive intenzioni si è fatta tagliare i capelli che Dio le ha dato a mod di velo e per lo stesso proposito abbandonato l'abito femminile ha imitato l'abbigliamento degli uomini quindi la condotta del crossdressing è messa a fuoco già nell'atto d'accusa per questo all'esito del primo processo è necessario che nel momento in cui Giovanna è costretta ad abbiurare parli anche di questo sappiamo che in data 24 maggio 1431 Giovanna abbiura nel corso di una lugubre cerimonia messa su dai suoi carcerieri che si svolge nell'ambito di un cimitero alla presenza del popolo è pensato per essere una cerimonia il più possibile umiliante per lei perché si è esemplare davanti a tutti in questa situazione avrebbe firmato la Pursella un atto di abbiura in cui si ricorda proprio la condotta del crossdressing recita l'atto di abbiura io Giovanna in volgare detto alla Pursella misera peccatrice confesso di aver commesso gravi reati trasgredendo la legge divina la sacra scrittura e le norme canoniche portando un abito dissoluto deforme e disonesto contro la decenza della natura nonché tagliandomi i capelli in forma rotonda come fanno gli uomini contro ogni decenza del sesso femminile quindi questo comportamento di aver adottato l'abbigliamento da uomo che è riconosciuto da un lato indecente dall'altro contro natura quindi una sorta di volontà di rovesciare l'ordine cosmico un comportamento per questo imperdonabile dopo questa abbiura a parole Giovanna è costretta anche a una sorta di abbiura di fatto perché i membri della corte inquisitoriale vanno da lei e le fanno materialmente rinunciare all'abito maschile va da lei il vicario dell'inquisitore Gianle Mester era un frate domenicano e la costringe ad abbandonare l'abito maschile di questo incontro fra Giovanna e Gianle Mester c'è un verbale che si è conservato negli atti del processo diciamo il processo di Giovanna d'Arco è uno dei processi del Medioevo meglio documentati abbiamo tantissimo materiale a riguardo tra cui c'è anche il verbale di questo incontro in cui si legge le fu detto di abbandonare le vesti virili e di adottare quelle femminili come l'era stato ordinato dall'autorità ecclesiastica a ciò Giovanna rispose che volentieri avrebbe ripreso le vesti femminili e si conformava in tutto e obbediva agli ecclesiastici e deposte le vesti virili immediatamente indossò le vesti femminili che le erano offerte inoltre volle e permise che le fossero tagliati i capelli che precedentemente portava in forma rotonda quindi effettivamente una rinuncia totale una resa totale da questo momento il destino di Giovanna era quello di sprofondare nell'oblio essere appunto rinchiuso in un monastero avendo rinunciato all'abito maschile che era il segno della sua eccezionalità era anche il segno della sua speciale elezione da parte di Dio avrebbe rinunciato a questo avrebbe ammesso di essere nulla di speciale nulla di effettivamente straordinario e avrebbe vissuto fino alla fine dei suoi giorni in regime di stretta penitenza però questo non è quello che succede come tutti sapete perché c'è un colpo di scena c'è un colpo di scena perché la mattina del 20 maggio 1431 sono passati solo quattro giorni dalla biura i suoi carcerieri la vanno a controllare nella sua cella e scoprono che Giovanna ha di nuovo preso l'abito maschile compare di nuovo i suoi carcerieri vestita da uomo i carcerieri allora chiamano gli inquisitori che accorrono la interrogano di questo comportamento e anche di questo nuovo interrogatorio abbiamo un verbale negli atti processuali questo verbale recita dal momento che la suddetta Giovanna indossava le vesti virili vale a dire una tunica un cappuccio e una giubba con altri accessori di uso maschile abiti che per ordine nostro aveva in precedenza deposto riprendendo le vesti femminili interrogrammo la stessa chiedendo quando e per quale causa aveva ripreso tali vesti maschili a quel punto Giovanna rispose che aveva appena ripreso le vesti maschili abbandonando quella femminile interrogata sul perché avesse preso tali vesti e su chi l'avesse indotta a fare ciò rispose che aveva adottato tale abbigliamento di propria volontà senza che nessuno l'avesse costretta e che preferiva tali vesti a quelle femminili ora quello che veramente sia successo in quelle ore non lo sapremo mai alcuni storici hanno pensato che Giovanna sia caduta in un tranello appositamente organizzato dai suoi carcerieri contro di lei c'è chi dice che i carcerieri l'avessero privata di tutti i vestiti lasciandola nuda quindi diciamo violando il suo senso del prudore e anche mettendo a rischio la sua integrità fisica perché poteva essere oggetto di aggressioni sessuali dopo averla lasciata così per alcune ore i carcerieri le avrebbero lanciato un sacco che conteneva i capi di abbigliamento indicati nel verbale cioè una tunica un cappuccio una giubba capi di abbigliamento tipicamente da uomo la donna le avrebbe ripresi le avrebbe indossati perché non aveva altro con cui coprirsi e questo è il momento in cui diventa una relapsa questo è un momento in cui ricade nell'errore cade nella trappola e può essere dichiarata relapsa e quindi mandata a morte perché questo succeda perché possa essere mandata a morte però è necessario che si riconosca questo comportamento come consapevole volontario ed è per questo che gli inquisitori le chiedono se qualcuno l'ha costretta a prendere quei capi di abbigliamento e lei fieramente risponde no fieramente risponde no l'ho fatto di mia volontà perché per lei quello era anche il segno di elezione divina quindi fieramente afferma che è la sua volontà riprendere il capo di abbigliamento maschile ed è proprio questo che la rovina è proprio questo che segna il suo mandarla a morte come sapete è questo che la porta al rugo a questo punto dovremmo chiederci ma c'è veramente nell'ordinamento canonico qualche norma che consente questo c'è veramente fra le norme della chiesa qualche disposizione che consente di riconoscere come eretico qualcuno che indossa l'abito dell'altro sesso di condannarlo come eretico fino al punto da mandarlo al morte esiste una norma già nell'ordinamento canonico diciamo che norme contro il crossdressing effettivamente nell'ordinamento canonico c'erano a venire rilievo era in particolare un capitolo del decreto di Graziano il decreto di Graziano è semplicemente la più importante delle raccolte di fonti canonistiche dell'età medievale raccoglie fonti di tutto diciamo il primo millennio della vita della chiesa è stata messa insieme a Bologna intorno al 1130 1140 dal monaco Graziano è avuto una durata lunghissima nella vita della chiesa una vigenza lunghissima nella vita della chiesa venendo formalmente abrogato soltanto con la prima codificazione canonica che è addirittura del 1917 quindi una vigenza di quasi 800 anni all'interno del decreto di Graziano c'è una norma che parla di crossdressing e recita se una donna giudicando utile al suo proposito di usare la veste virile perciò i mitiliabiti degli uomini sia anatema è un capitolo penale lo riconosciamo che è un capitolo penale proprio dalla formula sia anatema in latino anatema sit che è la formula con cui viene combinata la scomunica per il resto non è chiarissimo l'esatto contenuto della norma e soprattutto non è chiarissimo l'inciso giudicando utile al suo proposito perché non si capisce dalla norma quale sia questo proposito che il legislatore ha in mente e per poter capire quale fosse questo proposito dobbiamo andare a scavare in quale era l'origine di questa norma andare a ricercare l'originare a mens del legislatore questa norma era nata come canone di un concilio particolare di un concilio provinciale che si era svolto nel quarto secolo nella città di Gangre diciamo in Asia Minore sapete tutti che i concili sono delle assemblee di vescovi che si riunivano per discutere di problemi dottrinali o di problemi disciplinari e prendevano delle decisioni che venevano emanate con efficacia vincolante nella forma di canoni quindi le emanazioni del concilio prendono il nome dei canoni in particolare a Gangre i padri conciliari i vescovi si erano riuniti per fare fronte a un problema scottante costituito dall'emergere di una setta eretica setta eretica di orientamento manicheo il pensiero manicheo era un pensiero che prevedeva una forte svalutazione della sfera corporale delle persone a includere anche la sfera sessuale e richiedeva ai suoi adetti un percorso di perfezionamento spirituale che passava attraverso delle pratiche penitenziali estreme pratiche penitenziali estreme che però potevano essere pericolose per la vita sociale e familiare e quindi per questo i vescovi a Gangra condannano questi comportamenti e i canoni di Gangra di cui abbiamo anche il testo originale in greco ci parlano proprio di lo sforzo della Chiesa Cattolica di contrastare queste pratiche penitenziali estreme e ne leggiamo qualcuna se qualcuno ritenga che sia da condannare come senza speranza chi mangi carne sia anatema quindi pratiche penitenziali alimentari estreme se qualcuno sotto il pretesto del culto divino insegna uno schiavo a disprezzare il suo padrone a venire meno a rispetto dovuto sia anatema quindi una condanna della schiavitù tale da mettere in pericolo quella che era la base stessa dell'attività produttiva dell'epoca della vita economica dell'epoca se qualcuno che conserva la propria verginità per Dio si reputi superiore coniugati sia anatema se una moglie abbandoni il marito e voglia separarsi da lui abborrendo le nozze sia anatema qui la condanna del matrimonio dei manichei che consideravano il matrimonio come uno stato di vita corrotto contro l'idea che è sempre stata l'idea della chiesa cattolica per cui il matrimonio è un bonum cioè un bene spirituale giova alla vita spirituale della persona se i figli abbandonano i genitori specie quelli cristiani sotto il pretesto del culto divino e non li onorano debitamente sia anatema quindi una serie di pratiche preintenziali estreme di scelte di vita religiosa estreme tali da mettere in crisi la vita familiare e la vita sociale e il canone di Gangra che abbiamo visto si inserisce in questo contesto e in questo contesto in effetti aveva una formulazione leggermente diversa recitando se una donna per quello che ritiene un esercizio di pietà muti il suo abito e il luogo dell'ordinaria veste femminile adotti quella maschile sia anatema quindi la condanna contro il crossdressing in realtà voleva vietare una rinuncia da parte delle donne della loro femminilità come pratica penitenziale quindi il capitolo del decreto di Graziano che abbiamo visto andrebbe effettivamente letto se una donna per quello che ritiene un esercizio di pietà imiti gli abiti dell'uomini sia anatema cioè quello che si voleva colpire era questo era pratiche penitenziali estreme tuttavia questo significato sarebbe andato molto presto perso e perché perché da un lato la setta manichea si sarebbe presto estinta si sarebbe dispersa e se ne sarebbe persa anche la memoria dall'altro invece la norma in questione rimarrà in vigore fino al 1917 quindi avrà una vita lunghissima con la conseguenza che molto presto non si capisce più qual è il proposito menzionato nel capitolo non si capisce più a cosa fa riferimento questo proposito si crea quindi un vuoto di significato un vuoto di significato destinato a essere riempito dagli interpreti con i loro ragionamenti in particolare gli interpreti medievali riempiranno questo vuoto alla loro maniera con la loro cultura una cultura che era certamente misogina ed era soprattutto abituata a leggere la figura femminile sempre necessariamente in relazione alla sfera sessuale quindi ogni volta che c'era una donna era messa in gioco la sfera sessuale ed era messa in pericolo la morale sessuale all'esito di questo gli interpreti medievali leggono il proposito citato nel capitolo in maniera completamente diversa da quella che era originariamente il legislatore cioè la leggono come il proposito di prostituirsi l'esatto opposto di quello che aveva avuto in mente il legislatore di questo abbiamo dei riscontri abbiamo dei riscontri innanzitutto nella glossa ordinaria al decreto di Graziano cioè diciamo quello che è il commentario ufficiale al decreto di Graziano in questa glossa ordinaria in questo commentario ufficiale ai vari capitoli del decreto rispetto al capitolo che ci interessa oggi che cosa era detto facendo riferimento all'inciso giudicando utile al suo proposito affermava giudicando utile al suo proposito perché la donna è più abile più pronta a prostituirsi in una veste aperta che in una chiusa questo perché effettivamente le vessi femminili medievali erano pensate innanzitutto per proteggere il pudore delle donne per garantire la loro onorabilità sessuale quindi effettivamente non era facile concedersi sessualmente se si indossava un abito femminile tutte queste cautele nell'abito maschile assolutamente non c'erano però vi rendete conto come è un'interpretazione molto molto lontana dall'effettiva mens del legislatore e che ci rivela come il cross dressing fosse visto dai medievali come una pratica che appunto metteva in pericolo la morale sessuale era una pratica perturbante che metteva a rischio il buon comportamento della gente sotto il profilo sessuale e lo metteva a rischio non nella maniera che potremmo dare per scontata cioè noi potremmo pensare che il cross dressing facendo confusione sull'identità sessuale delle persone potesse creare degli inconsapevoli desideri sessuali omosessuali delle persone cioè potesse indurre le persone a desideri omosessuali a desiderare inconsapevolmente persone del proprio stesso sesso gli interpreti medievali dicono il contrario cioè ritengono che il cross dressing sia un incentivo alla lussuria ma una lussuria del tutto eterosessuale spinga le persone a desiderarsi l'un l'altro ma eterosessuali non in maniera omosessuale e di questo abbiamo vari riscontri andando a leggere i testi dei moralisti e dei teologi il più grande dei teologi medievali di San Tommaso d'Aquino a questo riguardo per esempio aveva detto che una donna indossi l'abito da uomo o viceversa cioè che un uomo indossi l'abito da donna è un incentivo per la confiscenza e fornisce occasioni per la libidine che cosa vuol dire fornire occasioni per la libidine ce lo dicono i testi di altri moralisti per esempio molto utile per capire il modo di pensare dei moralisti dell'epoca e una fonte molto utile per capire il modo con cui ragionano i moralisti sono i manuali per confessori che sono delle opere di taglio molto pratico pensate per aiutare il confessore a guidare i penitenti che si rivolgevano a loro per la confessione in uno dei più importanti manuali per confessori del quattrocento si chiama la Suma Roselle ed è stata scritta da un frate francescano piemontese che si chiamava Battista Trova Mala si dice tale uso o meglio abuso cioè il crossdressing è proibito perché è occasione di libidine dal momento che la donna vestita da uomo può più licenziosamente darsi alla lussuria con gli uomini e lo stesso vale per l'uomo vestito da donna perché più liberamente può entrare negli spazi riservati alle donne quindi nel mondo medievale in cui c'era una netta distinzione fra gli spazi riservati agli uomini e gli spazi riservati alle donne c'era una totale segregazione dei sessi il crossdressing era qualcosa che scardinava quest'ordine perché consentiva agli uomini di accedere gli spazi femminili alle donne di accedere gli spazi maschili e concedersi più facilmente quindi vedete che si arriva a una lettura praticamente opposta a quello che era originariamente nella mente del legislatore il legislatore aveva vietato il crossdressing come una pratica penitenziale estrema praticata da delle fanatiche religiose i medievali lo vedono invece come modo di vietare un comportamento che incentiva la lussuria che incentiva addirittura la prostituzione ad ogni modo comunque si intendesse il proposito menzionato nel capitolo la rilevanza giuridica di questo inciso giudicando utile al suo proposito è soprattutto un'altra utilizzando diciamo un linguaggio che attualmente usano i penalisti quello inciso giudicando utile al suo proposito infatti richiedeva un dolo specifico che cosa vuol dire che la donna sarebbe stata effettivamente punibile se faceva una condotta di crossdressing quindi se prendeva gli abiti maschili soltanto se aveva in mente quel proposito lì cioè se soltanto se agiva secondo quella specifica intenzione con il risultato che se faceva la stessa condotta cioè se adottava gli abiti a uomo con un'altra intenzione non sarebbe stata punibile la donna poteva vestirsi da uomo anche senza un proposito malvagio anche per dei fini unarmente neutri o addirittura dei fini apprezzabili dei fini commendabili e di questo abbiamo molti risconti della letteratura giuridica molti giuristi si sono pronunciati su questo punto per esempio uno dei più grandi canonisti del medioevo è Guccione da Pisa e muore all'inizio del tredicesimo secolo si dice la donna non pecca se si veste da uomo per evitare più facilmente i pericoli o per compiere un'opera buona o per perseguire un onesto proposito un altro canonista che vive circa cento anni muore all'inizio vive cento anni dopo Guccione muore all'inizio del quattordicesimo secolo ci dice si ha una tema se la donna ha un proposito malvagio cioè la prostituzione non si ha un proposito buono se parta fuori dalla città o si sforzi di conservare la cazzità temendo altrimenti di perderla quindi do lo specifico della prostituzione in tutti gli altri casi la donna non è punibile e questo era esattamente il caso in cui si era trovata Giovanna per l'intera durata della sua avventura perché sappiamo che aveva preso l'abito maschile per la prima volta proprio nel momento in cui aveva lasciato il suo villaggio addirittura i suoi compasani avevano fatto una colletta messo insieme dei soldi per regalargli degli abiti da uomo che le consentissero di viaggiare in maniera più sicura i viaggi sapete nel medioevole erano assolutamente un momento pericolosissimo perché esponeva il rischio di attacchi e per una donna questi attacchi erano tanto più pericolosi perché c'era anche il rischio di violenze sessuali quindi i compasani volevano proteggere Giovanna in questo modo consentendolo di spostarsi senza essere oggetto di aggressioni sessuali questa idea per cui era necessario un dollo specifico e se non c'era questo dollo specifico il comportamento non era punibile viene ripreso anche dai moralisti che si spingono ancora più in là e si spingono ad affermare che se non c'è questo cattivo intento il comportamento il crossdressing non soltanto non comporta un reato ma non comporta nemmeno un peccato non è neanche moralmente reprensibile se leggiamo in un altro manuale per confessori sempre del quattrocento sempre scritto da un frate francescano la sumangelica di Angelo da Chivasso leggiamo aggiungi che una donna può indossare tale abito cioè l'abito maschile senza peccato per qualche caso necessità come ad esempio per nascondersi dai nemici o perché non ha altre veste e così via esattamente la situazione in cui si era trovata Giovanna in carcere quindi a ben vedere secondo il diritto canonico sulla base dell'applicazione rigorosa delle norme di diritto canonico Giovanna non poteva essere condannata sulla base delle norme di Gangra tuttavia come abbiamo visto nell'atto di accuse anche nella Biura Giovanna veniva indicata non soltanto come qualcuna che aveva violato una norma di diritto canonico cioè una norma umana di diritto umano prodotta dalla Chiesa ma anche come qualcuna che aveva violato dei precetti biblici e in effetti nella Bibbia c'erano dei versetti specificamente relativi al crossdressing avvenire in rilievo era un versetto del Deuteronomio che recitava la donna non indarsi abili da uomo nell'uomo porti vesti femminili è abominevole infatti presso Dio chi fa ciò questa norma è nel Deuteronomio che è uno dei libri del Pentateuco cioè della Torah della parte della Bibbia più sacra per gli ebrei la legge in quanto tale per gli ebrei è anche una parte importantissima dell'Antico Testamento per i cristiani e quindi gli interpreti ideologi sia ebrei che cristiani si erano interrogati sul significato da dare a questo versetto e l'avevano letto mettendolo in relazione a delle presunte pratiche idolatriche che sarebbero esistite nel mondo antico questa era stata l'idea per esempio di Mosè Maimonide uno dei grandi interpreti del popolo ebraico vive nel 200 nella Spagna dominata dagli arabi e scrive quest'opera che si chiama La Guida dei Perplessi è un'opera che è pensata per dare una spiegazione razionale a ogni precetto della Bibbia in questo modo si volevano convincere i perplessi cioè le persone dubbiose le si volevano convincere a seguire i precetti della Bibbia che cosa dice Maimonide nella Guida dei Perplessi a questo riguardo cita un volume che lui ritiene essere una descrizione del comportamento di un antico popolo il popolo dei Sabei un popolo pagano in questo libro che si chiamava Libro di Tum Tum Maimonide legge di alcuni rituali pagani fondati sul cross-dressing dice Maimonide del Libro di Tum Tum troverai comandato che l'uomo indossi una veste tinta da donna quando è in piedi davanti a Venere e che la donna indossi corazza e armi quando è in piedi davanti a Marte e questa idea messa in circolazione da Maimonide verrà ripresa anche dai teologi cristiani che si fonderanno sulla sua lettura il più grande teologo del Medioevo cristiano ne abbiamo già parlato Tommaso d'Aquinos in due punti della sua opera ritornerà a parlare di questi rituali nella prima secundice nella prima parte della seconda parte della sua grande opera la Suma Teologi Tommaso richiama ancora una volta questi rituali dice inoltre nel rendere culto a Marte le donne indossavano le armi degli uomini nel culto divenne al contrario gli uomini portavano le vesti femminili in un altro punto successivo nella seconda secundice nella seconda parte della seconda parte della Suma Teologi mette in relazione questi rituali espressamente con la norma deuteronomica affermando e perciò è di per sé vizioso che la donna usa l'abito maschile o viceversa ciò in particolare è proibito nella legge per legge si intende il deuteronomio perché i pagani usavano tale scambio per la superstizione idolatrica quindi il precetto del deuteronomio è concettualizzato come una norma contro l'idolatria tuttavia andando a leggere più a fondo negli interpreti cristiani ci rendiamo conto che essi ritenevano esistente un altro livello di lettura di questo precetto sempre nello stesso passo della seconda secunda di San Tommaso Tommaso ci dice anche altro ci dice ciò cioè il crossdressing l'adozione dell'abito del sesso opposto è proibito affinché la donna non usurpi la dottrina o gli altri compiti degli uomini e affinché l'uomo non si abbassi alla mollessa delle donne che cosa afferma Tommaso sostanzialmente che le proibizioni relative all'abito cioè l'obbligo di non adottare l'abito del sesso opposto serve sostanzialmente a mantenere ben distinto la sfera di competenza delle donne e la sfera di competenza dell'uomo due sfere che non devono comunicare a questo riguardo ancora più chiari sono altre espressioni che troviamo nei teologi medievali per esempio nelle opere di Nicola Dalira Nicola Dalira è un francescano francese che vive nel 300 aveva la caratteristica particolare rispetto ai suoi contemporanei di leggere l'ebraico e quindi è in grado di capire meglio la scrittura di dare una lettura più approfondita e che cosa ci dice la donna non indossi l'abito virile è spiegato da alcuni dottori in modo giusto io credo che ciò va inteso in riferimento alle armi utilizzate dagli uomini nel testo ebraico infatti si ha non sarà il vaso dell'uomo sopra la donna e qui come in altri passi della scrittura per vaso si intende l'armatura si provisce dunque qui che la donna porti le armi degli uomini perché indecente per la donna è presuntuoso in questo modo continua Nicola si implica che la donna non deve compiere atti virili come predicare insegnare cose simili nell'uomo deve compiere atti femminili come filare lavare i panni e cose simili quindi una netta distinzione delle prerogative degli uomini e delle prerogative delle donne con la particolarità che le prerogative dell'uomo attengono alla sfera militare al comando e all'insegnamento alla scienza alla dottrina le prerogative della donna attengono alla sfera domestica ai compiti domestici a lavare filare e cose simili ora se questo era il reale significato della norma deuteronomica non c'era dubbio che Giovanna l'avesse violato l'aveva violato innanzitutto perché le armature e le armi le aveva effettivamente portate ve l'ha detto il dottor Stolfi il delfino le aveva fatto costruire una splendida armatura apposta per lei aveva portato la spada aveva numerose spade alcune delle quali si diceva che avessero poteri miracolosi e anche al di là del mero fatto di portare le armi sicuramente aveva invaso delle prerogative maschili e abbiamo tanti riscontri ciò ci sono tante prove contro di lei innanzitutto nel suo epistolario abbiamo alcune lettere di Giovanna sappiamo che era analfabeta ma sapeva scrivere il suo nome quindi le lettere venivano dettate ai suoi segretari ma lei metteva la firma autografa e da queste lettere si vede proprio quanto a fondo Giovanna avesse assunto modelli comportamentali maschili il testo più emblematico in questo senso è la lettera agli inglesi del 22 marzo 1429 siamo prima dei momenti che vi ha poco fa raccontato il dottor Stolfi del momento in cui rompe l'assedio di Orlean e che cosa c'è scritto in questa lettera? Una lettera rivolta al re degli inglesi e agli altri leader militari inglesi re d'Inghilterra rendete conto delle vostre azioni al re dei cieli restituite alla pulsella inviata da Dio re del cielo le chiavi di tutte quelle buone città che avete preso e violato in Francia e lei è stata inviata dal signore per reclamare il sangue reale ed è pronta alla pace se le darete soddisfazione rendendo giustizia e restituendo quanto avete sultato re d'Inghilterra se non farete così io sono comandante di guerra e in qualunque luogo sul territorio di Francia io trovo i vostri uomini li costringerò volenti o nolenti ad andarsene e se non vorranno obbedire li farò uccidere tutti io sono inviata qui da Dio signore dei cieli per buttarvi fuori da tutta la Francia uno per uno nel testo originale dice corpo su corpo e se vorrete obbedire avrò misericordia se non vorrete credere agli annunci di Dio e della pulsella faremo un così grande baccano che non ve ne sarà uguale in Francia nei prossimi mille anni se non rendete giustizia ora già soltanto nel suo genere letterario questa lettera è l'assunzione di un modello comportamentale maschile perché rientra nel genere letterario delle lettere di sfida che era qualcosa di assolutamente normale nel mondo feudale quando un signore feudale aggrediva il feudo di un altro signore prima gli mandava una lettera di sfida con cui poneva l'alternativa o ti arrendi pacificamente oppure ci sarà la guerra ed è esattamente quello che fa Giovanna con queste minacce ma al di là del genere letterario è proprio il contenuto della lettera che comporta l'assunzione di modelli comportamentali maschili secondo la nostra sensibilità attuale quello che è veramente scandaloso della lettera è il fatto che Giovanna si presenti come profetessa come inviata dal signore afferma che le minacce che sta facendo il re degli inglesi sono minacce del signore attraverso la sua bocca questo però come vi ha ben detto il dottor Stolfi era qualcosa di non straordinario per il medioevo nel medioevo c'era l'idea che il dono della profezia fosse un dono che Dio poteva dare agli uomini che Dio dava spesso e volentieri soprattutto a persone in situazione di marginalità come potevano essere bambini come potevano essere persone socialmente marginali come i pastori spesso accadeva lo poteva dare addirittura a persone con delle disabilità mentali lo poteva dare alle donne e nella storia del medioevo è ricchissimo di figure di questo tipo la più famosa della storia italiana ve l'ha già citata il dottor Stolfi Caterina da Siena era la figlia di una famiglia numerosa di artigiani di Siena non era neanche una religiosa era una laica che riceve rivelazioni da Dio e in base a queste rivelazioni si rivolge con parole durissime al pontefice per chiedergli di tornare da Avignone a Roma poco prima di Caterina c'era stata Brigida di Svezia una vedova anche lei laica che riceve rivelazioni da Dio si rivolge al pontefice gli chiede di tornare a Roma e pretende la riforma morale della chiesa quindi l'idea della profetessa era un'idea diffusa nel medioevo e non era neanche strano che queste profetesse accompagnassero gli eserciti delle battaglie perché avevano un ruolo specifico nella nella battaglia di esortare l'esercito di tenere alto il morale della truppa di far credere soldati che combattevano con il favore di Dio combattevano per una giusta causa ma Giovanna in questo contesto non fa questo non fa la profetessa non fa semplicemente l'araldo che tiene alto il morale della truppa perché come dice chiaramente il testo e questo passo l'è stato contestato anche nel corso del processo Giovanna si ritrova a fare il comandante di guerra assume una posizione di leadership militare che era qualcosa di squisitamente maschile quindi se il significato e la norma deuteronomica era punire donne che assumevano prelogative maschili è in dubbio che Giovanna questo l'avesse fatto mi sembra da questa brillantissima esposizione che possiamo per i fili di questa ultima diciamo parte della nostra processo non avete sentito niente un processo che per molta parte per larghi tratti è un processo politico non solo perché le norme del diritto canonico rilevanti come ci ha spiegato Federica sono state applicate in modo diciamo quanto meno criticabile ma anche perché probabilmente sono state applicate da un tribunale che non aveva la competenza per giudicare Giovanna era costituito in modo nullo o comunque gravemente viziato c'era stato una serie di traccheggi da parte dei funzionari ecclesiastici che svolgevano a livello centrale ruoli inquisitoriali diciamo che il grande inquisitore di Francia addirittura aveva detto no io non ci voglio entrare rimango a Parigi e questo processo non mi riguarda tant'è vero che l'aveva preso l'inquisitore provinciale il vescovo Cochon che caso vuole sia stato svillaneggiato poi per secoli e secoli perché ovviamente il suo nome ha una fortissima assonanza con quello che designa il maiale in francese il vescovo Cochon probabilmente è andato oltre i limiti non solo della sua giurisdizione in quanto potesse assiudicandi ma proprio della sua giurisdizione in quanto limiti della diocesi perché probabilmente non aveva competenza a giudicare Giovanna che non era stata catturata all'interno dei confini della sua diocesi non solo tutto questo tanto è vero che nemmeno vent'anni dopo ci fu una riapertura del processo una revisione del processo questa volta condotto con tutti i crismi del diritto canonico che portò alla completa riabilitazione di Giovanna quindi un processo politico sicuramente un processo politico ma con un risvolto un pochino più inquietante nel senso che in questo secondo diciamo ramificazione della problematica giuridica che ci ha fatto vedere Federica in realtà si vede probabilmente il punto un pochino più di rottura della vicenda di Giovanna cioè quella in cui effettivamente lei si presenta come una figura che alla fine mettendo troppo in discussione l'ordine all'ecoevo doveva essere in qualche modo messa da parte il che spiegherebbe non solo l'esito della vicenda per i suoi naturalmente così come portato avanti dai suoi nemici cioè i borgognoni e gli inglesi ma anche il fatto che alla fine il delfino non è che si sia proprio esattamente stracciato le vesti per andarla a recuperare nonostante il fatto che ella gli avesse procurato l'incoronazione tutto sommato e in effetti forse era lo stesso delfino che nell'ultima parte della vicenda di Giovanna aveva un pochino calcato la mano su questo fatto che lei fosse un capitano di guerra e questo perché proprio in qualche modo per depotenziare invece quella carica profetica che invece tutti i suoi coevi erano disposti a riconoscerle proprio perché faceva parte di una di quelle stratificazioni di questo medioevo complesso che in realtà appartenevano alla coscienza collettiva mentre non apparteneva alla coscienza collettiva il fatto che una donna fosse un uno dei capitani delle armate del re di Francia e se il delfino aveva permesso che negli ultimi consigli di guerra Giovanna partecipasse alla pari dei suoi capitani questo non era un favore che lui stava facendo a Giovanna ma era un modo gradualmente per affrettare diciamo così la sua marginalizzazione dal punto di vista politico quindi perché perché Giovanna è una figura con una carica politica potentissima in un certo senso e qui veniamo all'ultimo pezzo diciamo così della sua del nostro del nostro discorso in un certo senso la sua è una figura che si pone a suggello diciamo così di due stagioni nella concezione dei rapporti fra l'autorità politica e i cittadini perché perché Giovanna in un certo senso è come se consegnasse alla regalità francese dalla prospettiva tradizionale del popolo di Francia lo strumentario per cambiare la propria rappresentazione all'interno dell'ordinamento in questo Giovanna fa applicazione di alcuni concetti che per lungo tempo erano stati in realtà dimenticati nella teoria e nella prassi politica dell'Europa perché il concetto di patria nel medioevo cristiano per lunghissimo tempo non aveva avuto quelle risonanze emotive che invece aveva nella classicità greca ma soprattutto latina perché per gli uomini del medioevo diciamo universalistico dell'alto medioevo diciamo retto dalla preminenza dei due soli di Dante quindi dell'impero e del papato la patria che aveva risonanze emotive non era certo quella che noi oggi chiameremmo patria cioè l'entità politica in cui noi ci riconosciamo ma la patria celeste mentre invece il vincolo feudale che era quello che susciterebbe oggi quel tipo di reazioni che noi chiameremmo patriottiche era un vincolo di tipo squisitamente ed eminentemente personale cioè il vassallo doveva fedeltà fides al suo signore e il suo sacrificio era un atto di fedeltà al suo signore non un atto diciamo così che obiettivava il suo valore nel rivolgersi alla patria come noi la concepiremmo in un modo che mi permetto di dire è non più che ottocentesco ma vè che già da un po' il termine patria stava adottando un nuovo significato questo perché era diciamo così la stessa monarchia che aveva iniziato a costruire una rappresentazione della struttura dello Stato che postulava una necessità di adesione da parte dei sudditi in qualche modo diversa io ci tengo molto perché mi convince ancora molto a riportare una intuizione che è di un grandissimo storico francese del novecento Marc Bloch l'autore di un libro bellissimo che si chiama Iretta Umaturghi il quale ci spiega che dobbiamo fare attenzione perché non è la nazione che crea lo Stato ma è lo Stato che crea la nazione non è diciamo così il consenso emotivo intorno al patriottismo che crea la centralità della figura monarchica ma è l'evolvere grazie diciamo così ad una serie di discorsi filosofici politici e giuridici dell'idea di sé che ha la monarchia a poi suscitare nel paese quella forma di adesione che la renderà il motore della modernità in altre parole i re diventano taumaturghi e non si legittimano in quanto taumaturghi ma il diventare dei guaritori è il sugello del fatto che la loro statura regale è di un certo tipo ho riportato qui un passo di un articolo fondamentale per capire quando il concetto di patria riprende in qualche modo a riferirsi a quello che diventerà di lì a poco lo Stato pro patria mori per l'appunto di Ernst Kantorowicz nel 1302 dopo la sconfitta francese a Courte Filippo IV il bello sempre lui o i suoi ufficiali chiesero sovvenzioni al clero per la difesa della patria nativa per la quale la venerabile antichità dei nostri antenati ci aveva ordinato di combattere perché preferirono la difesa della patria perfino all'amore per i loro discendenti ora voi in questa frase capite perfettamente qual è il grande inganno della modernità in realtà qui il sovrano sta chiedendo in nome del patriottismo qualche cosa che serve a garantire il funzionamento continuo della macchina dello Stato ora il problema istituzionale è che nell'alto medioevo lì il governo semplicemente non esisteva il fatto che per noi debba esistere necessariamente una potestà di governo che opera nel continuo è esattamente il frutto dello sforzo titanico della concezione della modernità ma nel medioevo il sovrano doveva incarnare un ordine che però non postulava un suo ruolo attivo quotidiano nella gestione di quella che noi oggi chiamiamo l'amministrazione e quando la monarchia aiutata da un nuovo ceto di burocrati giuristi soprattutto che si costruisce un ruolo che deve operare nel continuo che questa serie di strumenti si affinano e devono trovare anche una rappresentazione ideale in altre parole ecco che rispolveriamo l'armamentario classico della patria come riferita ad una collettività più ampia di quella dei singoli vincoli feudali quindi una collettività che poi con il passare delle stagioni diventerà la collettività nazionale ma solo perché la potestà di governo ha la necessità di reggersi nel continuo quindi per dirla proprio in termini brutali il re ha bisogno di soldi perché ha perso la battaglia allora è la necessità seregni che crea l'idea di patriottismo è il mutare delle strutture burocratiche l'apparire di questa potestà di governo che opera nel continuo che mai non cessa questa dignità che non si interrompe mai a creare poi una serie di aure intorno a sé esattamente quello che succede anche con l'idea del fatto che il popolo radunato sotto la corona sia un corpo mistico come quello della chiesa idea che non è sempre appartenuta all'idea dell'occidente medievale ma che arriva ad appartenervi quando appunto soprattutto nel 300 è necessario per mantenere questo apparato della regalità il fatto che vengano trascesi i vincoli feudali i vincoli personali e che quindi si crei una nozione di popolo che può riconoscersi in una identità che ha un che disacralizzato il popolo come corpo mistico quando invece per l'occidente medievale fino ad allora il corpo mistico era stato solo ed esclusivamente quello della chiesa ed ecco quindi che a chiusura di questa lunga transizione del medioevo finalmente sant'ommaso nella summa teologia e dante soprattutto nella divina commedia possono ritornare a parlare esattamente come millenni prima avevano fatto i latini classici dell'amor di patria come una forma di virtù che per lunghi secoli era stata assolutamente sconosciuta ora noi possiamo e dobbiamo immaginare che Giovanna essendo esattamente l'incarnazione della media dei contadini francesi del suo tempo questa idea che cari francesi voi dovete sovvenire alla necessità seregni perché ve lo chiede il dovere patriottico l'avesse in qualche modo fatta propria ci fosse cresciuta soprattutto come abitante di una zona di confine che proprio in quelle dispute logoranti fra le varie fazioni della guerra dei cent'anni era rimasta fedele al partito dei Valois e quindi si sentiva un avamposto culturale spirituale del regno di Francia questa idea che Giovanna ha di sé in un certo senso la qualifica particolarmente apporsi come un compendio di teoria della regalità medievale cioè Giovanna se mi permettete l'espressione un po' forte è la Francia che presenta al re il suo destino ovviamente lei non lo sa ma al delfino questa cosa torna particolarmente comoda ma quale regalità esprime Giovanna al cospetto di quello che proprio grazie a lei diventerà Carlo VII e qui torniamo all'incontro a Sinon che diciamo è un quadro vividissimo di simbologie del potere del medioevo che si impermia intorno ad un aneddoto che a me mi entusiasma ogni volta che lo racconto perché voi immaginate quello che succede in quell'epoca in cui l'unico modo per conoscere il volto del re ovviamente è la monetazione ma in un periodo di guerra perenne dove peraltro il re è pure mezzo esiliato nella parte più povera del suo regno ovviamente non ha accesso alla zecca non ha accesso nemmeno alle casse dello Stato nella loro interezza la monetazione che noi conserviamo di Carlo come delfino ovviamente praticamente nulla inesistente come poteva mai Giovanna sapere che faccia ci avesse questo qua e infatti non lo sapeva per mettere alla prova i suoi poteri divinatori quando il delfino sa che Giovanna si sta avvicinando al castello di Sinon per incontrarlo per perorare la causa della liberazione della Francia dal nemico inglese il delfino si spoglia della sua veste regale che come tutti immaginate è adornata dei simboli araldici della monarchia francese quindi ha un giusta cuore blu con i gigli d'oro ricamati e poi ci dobbiamo immaginare naturalmente tutte le regalie che permettevano appunto di incarnare la regalità e naturalmente fa vestire uno dei suoi cortigiani dopodiché si nasconde in uno degli angoli del salone del castello di Sinon ma ciò non di meno quando Giovanna entra in questa sala affollata gremita di cortigiani senza avere un attimo di esitazione va verso il delfino si inginocchia al suo cospetto e lo saluta in questo modo ci sono vari racconti di che cosa abbia detto però questo è quello che mi piace di più anche perché è quello più funzionale al discorso che stiamo facendo si inginocchia e dice ti saluto luogotenente di Dio in questa espressione luogotenente di Dio è racchiusa esattamente quella che era in quel momento l'idea collettiva di che cosa fosse il re e qui ci dobbiamo porre due domande chi è innanzitutto il re di Francia e chi è in generale il re medievale il re di Francia in quell'epoca proprio perché è iniziata come dire a permeare ha iniziato a permeare la società quella visione di patriottismo quindi l'idea che ci fosse una Francia in qualche modo stava prendendo piede è qualcuno che finalmente non ha più bisogno di ambire ad essere l'imperatore sembra strano ma in realtà proprio per quel problema della legittimità del potere che è il problema fondamentale del diritto pubblico medievale nella prima parte diciamo nell'alto medioevo proprio per quel problema della legittimità in realtà i re di Francia erano sempre stati ossessionati almeno quanto i re di Inghilterra lo erano dal fatto di diventare re di Francia dal fatto di diventare imperatori perché condividevano l'eredità carolingia che anzi ritenevano di conservare ancora più pura di quella invece degli imperatori eletti che tutto sommato appunto per il fatto di essere eletti non avevano più la sacralità del sangue di Carlo Magno mentre invece i re di Francia che eletti non erano ma erano re dinastici conservavano però c'è un punto di trapasso quando il re di Francia in realtà quasi si rende conto che questa pretesa universalistica in realtà non ha più senso di esistere ed è con Filippo Augusto circa diciamo quasi due secoli prima rispetto al periodo in cui stiamo parlando Filippo Augusto è colui il quale da una figura tutto sommato un po' in bilico perché il suo potere diretto si esercitava soltanto sull'Ile de France mentre invece i suoi vassalli erano spesso più potenti di lui riesce a riunificare i territori della colonna francese e a porsi veramente come tra virgolette signore in casa propria attraverso una serie di folgoranti trionfi militari il più grande di tutti è quello della battaglia di Bouvines nel 1214 che consacra appunto questa figura sovrana come il re potente della sua epoca ma perché Filippo Augusto? il re dice George Duby grande storico medievista francese nel libro che racconta il significato come dire di contesto di quella battaglia la domenica di Bouvines il re porta il sovrannome di Augusto glielo aveva dato rigordo allo scopo di celebrare in tal modo colui che aveva accresciuto il dominio reggio triplicandone di corso l'estensione ma un senso più grave pesa su questo epiteto evoca Cesare non ci si può ingannare suona come una pretesa all'impero Roma appartiene per diritto al re di Saint-Denis già diceva l'écuromant de lui non bisogna lasciarla ai tedeschi nel trapasso della figura di Filippo di Filippo Augusto si vede come questa pretesa universalistica inizia a trascolorare nel fatto che però in realtà il re può essere tranquillamente anche solo il re di Francia perché l'universalismo in qualche modo si coagula nel particolare di una comunità che serve all'affermazione di questa figura monarchica ma chi è il re medievale? se abbiamo visto che il re di Francia è un re che vuole essere imperatore poi ad un certo punto si rende conto che può essere imperatore anche essendo il re di Francia e lo vedremo meglio fra un attimo in realtà il re medievale è una figura che attraversa varie stagioni partendo da quello che è in realtà un capo tribale fondamentalmente ora nella grammatica del potere di quello che siamo abituati per mancanza di migliori parole a chiamare l'occidente il re in realtà ha due radici indoeuropee una è rex l'altra invece è quella dell'inglese king könig kuning in tedesco antico o cining in sassone significano per noi la stessa cosa in realtà significano due cose profondamente diverse perché rex rimanda alla latinità del rex sacrorum cioè colui il quale ha il compito di reggere sacra non è un comandante militare ma è un intermediario fra il cielo e la terra fondamentalmente fra le potenze celesti e la comunità quindi è il garante del fatto che la comunità politica è in equilibrio con i poteri dell'universo ed è la stessa idea di regalità che per esempio c'è anche nell'india vedica ma questo ci porterebbe un po' lontano mentre invece il König 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 king che cos'è è una radice che invece viene da stirpe e quindi qualifica il capo della tribù fondamentalmente il capo della diciamo così del popolo guerriero è tutta un'altra idea che evoca naturalmente il comando militare e il lignaggio nobile che conferisce quindi questa supremazia queste due figure nel re dell'alto medioevo trovano un impossibile tentativo di conciliazione quando nella dottrina giuridica dell'alto medioevo si prova ad attribuire alla figura monarchica una veste sacerdotale tentativo che viene immediatamente bloccato dalla chiesa perché il re cristiano e medievale non diventa mai un re sacerdote quindi se in alcuni tentativi diciamo così di sistematizzazione intorno all'anno mille noi possiamo trovare che il re viene descritto come vicario di Cristo vicario di Cristo in realtà questa espressione viene ben presto abbandonata perché il vicario di Cristo cioè qualcuno che ha diciamo della triplicità del carisma di Cristo anche l'unzione sacerdotale deve e può essere soltanto il papa che cosa rimane invece al re non quello di essere una figura religiosa quindi non un re santo ma di diventare un re sacro che è qualcosa di diverso sempre all'interno di una sacralità cristiana ma non sacerdotale quindi non è un santo ma un re sacro non sarà infatti più chiamato vicario di Cristo ma vicario di Dio luogotenente di Dio quindi tolto di mezzo il riferimento necessariamente sacerdotale che evoca la figura del Cristo il re medievale diventa il consacrato di Dio cioè qualcuno che pur non essendo sacerdote nella sua figura assomma un carisma sacro e qual è il simbolo di questa sacralità l'unzione il tentativo di far passare di gabellare l'unzione reggia come unzione sacerdotale viene sistematicamente sconfessato dalla Chiesa e così l'unzione reggia che oggi si conserva solo ed esclusivamente nell'incoronazione dei re di Inghilterra che peraltro è proprio come dire malamente copiata da quella dei re di Francia perché i re di Francia venivano consacrati con l'olio della Santa Ampolla che era stato portato direttamente dallo Spirito Santo per il Battesimo di Clodoveo secondo la leggenda e che veniva conservato nella cattedrale di Reims e che molto simbolicamente fu frantumato dai giacobini con l'ampolla che lo conteneva durante il durante il terrore quell'olio non è l'olio dell'unzione sacerdotale quello è un olio di un'unzione regale che ha un significato di per sé proprio certo molti sono come dire i tratti che questa regalità sacra prende in prestito dalla come dire dalle figure sacerdotali ma pur essendo necessaria questa rappresentazione del re come eletto di Dio a Deo Coronatus questo re non è un sacerdote e questo volente o nolente è comunque alla radice di una particolarità dell'Occidente e della politica del nostro la nostra cultura europea che vede comunque un dualismo fra sfera spirituale e sfera temporale per cui pur diciamo così nella commissione simbolica culturale filosofica teologica le due sfere non arrivano mai a sovrapporsi interamente come in altre storie culturali antropologiche ecc ma questo però questo però può portare all'evoluzione successiva l'evoluzione successiva è quella che viene magistralmente descritta sempre da Kantorowicz nel suo libro su i due corpi del re quando cioè questa sacralità reggia in effetti si sposta dalla centralità del re come custode della pace di Dio quindi l'aspetto personale di questo sovrano che è il suggello dell'ordine che Dio ha voluto disporre per il mondo ad un aspetto invece che potrei definire burocratico in altre parole con il nascere di quella potestà di governo che è innanzitutto amministrazione che mai non cessa e che quindi è una perennità che si porta verso la concezione moderna dello Stato ecco che il sovrano attraverso la faticosa opera ricostruttiva dei giuristi non ha più nemmeno bisogno di concepirsi come re sacro come luogotenente di Dio in terra perché in realtà è il rappresentante di qualcosa che è sacro di per sé il potere dello Stato ecco quindi l'ultima incarnazione di questa mutevolezza della figura reggia che parte come qualcuno che da capo diciamo da capobanda capoguerra barbarico vuole diventare un sacerdote cristiano ma non ci riesce diventa quindi il luogotenente di Dio e poi dal luogotenente di Dio diventa qualcosa che tutto sommato rappresenta il suo trionfo ma anche la sua contraddizione cioè diventa l'incarnazione dello Stato sacro i misteri dello Stato la sacralità non è più sulla persona del singolo monarca ma sull'ufficio che egli ricopre perché incarna la sacralità di un potere che non deve mai perire di questa corporation soul di cui parlano i giuristi inglesi che è la monarchia che si avvia a diventare lo Stato ma voi capite che se lo Stato è sacro di per sé prima o poi il potere farà a meno del re e di tutta l'armamentario della simbologia della religione e quindi si potrà arrivare nel tempo ad una nuova forma di legittimazione e a tagliare la testa al re che non è più il re di Francia l'eletto di Dio ad Eo Coronatus ma semplicemente il cittadino Luigi Capeto e questo è quello che succede nel gennaio del 1793 però il passaggio che a noi interessa è proprio questo fra la seconda e la terza stadiazione della monarchia cristiana quando il re diventa immagine dell'apparato che mai non cessa di questo governo perenne e quindi in un certo senso non è più soltanto il servo della legge perché la legge è la legge di Dio ma è anche il padrone della legge e questo lo vediamo molto bene per esempio nel prologo del Liber Augustalis di Federico II di Svevia che non a caso è uno dei sovrani medievali fra quelli che hanno avuto il rapporto più complesso con la sfera religiosa e non a caso il costruttore di quella enigma meraviglioso di Castel del Monte che molto probabilmente rappresenta fra le tante cose anche una estrinsecazione di questa simbologia della sacralità della figura reggia non necessariamente legata ad una sacranità cristocentrica va bene ma se il re è padrone della legge perché egli è la lex animata è la legge che vive allora il passaggio logico successivo è che quindi il re è un re che può fare la legge può cambiare la legge quindi non è più la legge che stabilisce chi sia il re come garante di un ordine naturale delle cose che è stabilito da Dio ma è il re che si servo della legge ma neanche padrone e quindi rex facit legem ma se il re fa la legge come atto di volontà siamo alle soglie dell'età moderna Giovanna d'Arco in tutto questo rappresenta il passaggio che attraverso la spontanea adesione della collettività che vuole riconoscersi in questa potestà di governo nascente consegna una simbologia antica ad un potere nuovo quando questa collettività che vuole essere patriottica in un senso nuovo depone i suoi simboli la sua mistica la sua e le sue credenze fervide di fronte al re nell'atto della consacrazione a Reims ecco che il re se ne appropria e può spostarsi con il baricentro della propria costruzione e della costruzione di se stesso verso lo stadio successivo cioè diventare il simbolo di un potere che da lì a poco potrà fino anche essere concepito come autonomo grazie mille al dottor Stolfi per questa veramente affascinante percorso grazie a tutti di essere qui di essere qui sotto Natale di essere qui in una situazione in cui c'era un traffico terribile grazie mille di essere qui grazie della vostra attenzione grazie di averci ascoltato il prossimo appuntamento del nostro ciclo di conferenze sarà giovedì 20 gennaio parleremo di caccia alle streghe siete tutti invitati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti